La Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanne messe lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del convitto nazionale del capoluogo abruzzese avvenuto nella notte del terremoto del 6 aprile 2009, in cui hanno perso la vita tre minorenni. La quarta sezione penale della Suprema Corte ha confermato quattro anni di reclusione nei confronti di Livio Bearsi, all'epoca preside del convitto, e due anni e sei mesi per Vincenzo Mazzotta, dirigente della provincia che aveva competenze anche su diverse scuole. Le accuse per entrambi sono di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Con il giudizio della Cassazione, quello del crollo del convitto, è il primo procedimento della max inchiesta sui crolli della Procura della Repubblica ad arrivare a giudizio definitivo. Ricordiamo che sono oltre 200 i filoni di indagini aperti inizialmente con il coordinamento della Procura della Repubblica. Nel primo grado, nel 2012, Mazzotta era stato assolto. La sentenza fu poi ribaltata in appello con la condanna a due anni e mezzo. La Cassazione ha ritenuto inammissibili due ricorsi e ha confermato anche la condanna del Ministero dell'Istruzione, quale responsabile civile a risarcire le parti civili, rappresentate dai genitori di Luigi Cellini, originario di Trasacco, uno dei tre minorenni morti a seguito del crollo dell'edificio, la cui costruzione, ricordiamo, risaliva a due secoli fa. In primo grado, Bearsi era stato condannato anche all'interdizione per cinque anni dei pubblici uffici, oltre al pagamento di una provvisionale di 200 mila euro. Stando all'accusa, il Preside non ha mai sottoposto la vecchia struttura ai restauri. Inoltre, non è mai stato redatto un piano per la sicurezza. Tra le accuse, al Preside e la mancata evacuazione dell'edificio durante le scosse che avevano preceduto la mortale scossa delle 3 e 32. Grazie a tutti.